Non è una foto? No. Avvisami prima. Bafuca è la qualità di un senso di bafucale. Quando hai bafucolone. Che è un video. Bafucale è la principale di mio. Quando hai bafucologi. Tu puoi anche prendere bafucane. Bafucatio. Tu puoi anche prendere bafucane. Tu puoi anche prendere bafucato. Garantito. Adesso sono anche abbastanza positivo in realtà. Cioè andiamo a casa. No, prima di tutto. Fatevi mangiare un pezzo di pizza. Invececare cosa. Adesso. Bafuca. 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 Yeah. Yeah. Bafuca. 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 Bafuca.